Come sapete uno dei problemi delle auto elettriche, uno dei punti cruciali è la ricarica e il tempo necessario per ricaricare le batterie per poter continuare il viaggio o il percorso. In questo settore sta lavorando un'azienda israeliana, si chiama Storedot, che promette di poter ricaricare le batterie in 5 minuti. Il servizio con la voce di Lilia Marcucci. L'ultima promessa soluzione nel campo della ricarica rapida arriva da Israele, dove la start-up Storedot ha ideato una nuova tecnologia in grado di ricaricare le batterie delle auto in appena 5 minuti. Nel realizzare tale tecnologia, denominata Flash Battery, e presentata alla Cube Tech4 di Berlino, Storedot si è concentrata non sull'aumentare il numero di chilometri percorribili con una sola carica, ma nel ridurre drasticamente i tempi di ricarica. Così è nata una batteria agli ioni di litio che, grazie all'uso di nanomateriali e composti organici proprietari, raggiunge la piena potenzialità in appena 5 minuti e in tal modo permette all'auto su cui è montata di percorrere 300 miglia circa 480 chilometri. Uno dei mezzi che hanno permesso di raggiungere questo risultato è la sostituzione della graffite tradizionalmente usata nelle batterie agli ioni di litio con un composto chimico non infiammabile da loro brevettato. Mentre la graffite limita la velocità di ricarica delle batterie, il composto di Storedot contribuisce a trasformare la ricarica rapida in realtà. Storedot, che sta lavorando insieme a Microsoft per offrire la propria tecnologia all'industria automobilistica, ritiene che prima che Flash Battery riesca ad arrivare sul mercato serviranno ancora circa tre anni.